Si raccusa, poliziotti denunciano 24 anni, segnalano l'assuntore e intervengono per incendio. Agente delle volanti, nell'ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato un giovane di 24 anni poiché, sottoposto al regime della detenzione domiciliare, si intratteneva a parlare con altra persona estranea al suo nucleo familiare. Agente delle volanti, inoltre, hanno segnalato all'autorità amministrativa un uomo di 30 anni trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. Infine, gli agenti sono intervenuti in Via Tisia per l'incendio della porta d'ingresso di uno studio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le indagini sono in corso.